E' durata appena 20 minuti la partita del comunale di Acireale tra Realaci e Calatabbiano nella diciottesima giornata del girone di ripromozione. La pioggia battente che ha inzuppato Acireale ha reso il terreno di gioco un pantano rendendo impossibile il rimbalzo del pallone. Adesso si attende la data del recupero. Questo freddo e piovoso inverno non dà tregua all'undici di Graziano Sapienza che a giocare di mercoledì ci sta prendendo l'abitudine. E vuole adesso dare continuità alla bella vittoria di cinque giorni fa al Calanna contro il città di San Filippo del Mela per quattro reti a due. Gol e spettacolo all'ombra del castello con la doppietta di un ritrovato rasà e la firma del ninja Barbagallo. Il Calatabbiano sembra ormai aver raggiunto il proprio equilibrio e una vittoria con il Realaci sarebbe fondamentale alla luce dei tre punti che separano Granate e Biancazzurri che vincendo aggancerebbero il Realaci al sesto posto. Grazie. 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 Grazie.